Eccoci qua Filippa! Eh sì, ci colleghiamo con lei? Con la nostra Lucianina! Ciao Lucianina, ci sei? Eeeh, ciao! Eccola! Sono Amucona! Ci fai sorridere. Stai bene? Sono Amucona, sono la cugina di Amucina. Sono l'uomo bene rifugio degli italiani. Sono già nel paliere dell'Istat. Sì, sei molto desiderata. In realtà Amucona è il mio nome d'arte, ma il mio vero nome è ipoclorido di sodio. Ma sono introvabile purtroppo, sono come Marche Caltagirone. No, adesso devo dire che si trova più facilmente, almeno qua a Milano si trova. Quindi insomma è stato più facile. Ma non questa, questa è la confezione condominio. Questa no, effettivamente non c'è. A grandezza naturale. E questo qua costa come un soté di ostriche. Vedo che stai bene. Questa confezione costa tantissimo. Stai bene, sei in piedi. Hai visto? Sono in piedi con la stampella. Sì, molto carina. Adesso esco così, ho un appuntamento con Citrosil, Betadine e Tantum Verde. Va bene, senti, va bene, senti. Vedi che quando Salvini parlava alle persone e soltanto al citofono ci aveva visto. Ci aveva ragione. E noi che ce l'avevamo tanto lamentati. Comunque io ho preparato uno scongiuro, attenzione. Hai visto che Amadeus fa il testimonial? Sì. Contro il virus? Ho visto. Eh, attenta, ma non hai chiamato a testimoniale qualcosa? Mai, mai. Mai, perché non dai nessuna sicurezza. Eh, niente, niente, è un disastro. Lui con quel naso lì, se non se la prende lui con quel naso lì, non se la prende nessuno. Va bene. Comunque ho preparato uno scongiuro per scacciare la sfida e far riloggiare il virus. Ne abbiamo bisogno, ascoltiamo. Sei pronto Fabio? Sì. Occhio malocchio, prezzemolo e ginocchio, virus bastardo ti sputo in un occhio. Larga la foglia, stretta la via, vada a cagare quest'epidemia. Faccia da virus, brutto corona, son la mucchina che non perdona. Coronavirus, faccia da stronzo, ti faccio smettere di andare a zonzo. Sei solo una fila di brutte palline. Se te le taglio, vediamo la fine. A noi non servono, no, certi mostri. Che di problemi? Ci abbiamo già i nostri. Io, per esempio, con un grande strazio, cerco da anni un vaccino per Fazio. Eh, ma dai. Con i contagi, coronia. Ora frena, metti fine alla quarantena. Brutto corona, ascolta Luciana. fuori dal cacchio da stasettimana. Ma brava, è lunga come la cavallina storna. Ma brava, bella, brava, bella. Che succede? Aspetta che mi suonano di nuovo. Ma come è possibile? Che sono tutti barricati in casa. Ma come, corre spedita. Non mi sono ancora ripresa dalle natiche della Lamborghini. Salvini, aspetta un attimo, va. Chi è? Salvini. Salvini! Stai scherzando, dai. Ma mi ha trovato, Fabio. Ma Salvini! Ma non scherzare, dai. Ma come è possibile? Non ci sono, non sono in casa. Ritaventare. Ma se stai rispondendo, ma come non ci sono? Ma è Stanley Olio, non ci sono. Guardi che qua c'è lei Soardi, non le conviene venire. Smettila! Ma dai, ma chi è? Mi dispiace. A casa non ho mojito, signor Salvini. Ho solo della valeriana e del succo d'arancia. Ma chi è? Ma cosa gli posso dire per farlo amico? Non so, che ce l'ho duro. No! Smettila! Sì? Chi? Simone? Simone Salvini! Ah, Simone! Salga, salga. Chef vegano per eccellenza. Ti sei spaventata, eh? Mamma, ho il cuore che raglia dallo spavento, sai. Mamma mia! Lo salutiamo un attimo, lo vediamo entrare. Mi sento il sangue nelle piazzole di emergenza. Allora. Eccolo qua. Vediamolo. Prego, buonasera. Eccolo, ciao Simone! Buonasera Simone Salvini. Ciao Fabio. Ciao, dove sei capitato? Mi hai fatto aspettare tanto però, eh? Vabbè, ma mi hai detto Salvini, scusami. Sono Salvini. Mi dovevo preparare un attimo, eh? Invece è l'uomo che sussurra le melanzane, Fabio. Ma tu lo sai che lui una bistecca quando la vede la carezza, la bacia come fosse sua sorella. Senti, lui siccome ha lo stato vegetale, Fabio, da anni, hai mica una ricetta per lui? È ginger, ginger. Tanto ginger. Grattugiato nella tisana, nel primo, nel secondo, nel dolce. Anche se lui è proprio già sfatto come la cicoria saltata in padella? No, no, Fabio è un amico e... Fabio non sa niente di roba vegetariana. Fabio sa più di quello che tu. Si è. Si è un centramanti del Brasile, guarda, te lo dico io. Va bene. Allora, le prepari tu un brodino, Simone? Cosa ne facciamo? Io, no, no, stasera prepariamo qualcosa invece di più prezioso. Guarda come si mette. Si mette a gambe aperte per essere alto come me. Ma insomma, un metro e novanta ancora... No, no, ma scusa, fatti vedere... Ancora sedersi un attimo? Sì, sì, volentieri. Ma come mai ti sei vestita così stasera? Mi sono vestita da mucchina, guarda. Guarda, 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 Simone è seduto e uguale a lei in piedi, no, per dire. Potresti salire sulla cassa panca? Ho fatto tutto questo per lasciarti la battuta. Grazie, ti voglio bene. Un abbraccio, a più tardi. Ciao Lucianina, ciao Simone, grazie, grazie.